Ringrazio anche io a tutti quelli che sono intervenuti, soprattutto a tutte le aziende, perché capisco che il tempo è denaro e quindi essere qui è molto importante anche per noi. Volevo poi chiedere, io sono qui a metà come FBK, a metà come Università, perché insegno questo corso, in realtà il mio lavoro principale è l'FBK, e come faceva notare l'assessore prima, il ruolo di FBK, per quanto a metà tra l'ufficiale e l'ufficiosa in questa cosa, ma è proprio quello di provare ad investire insieme all'Università, nella formazione, nell'innovazione, che poi è la nostra cosa tipica, e nella ricerca, per provare ad essere un po' più vicini all'azienda nel modo che la ricerca e l'innovazione devono essere. Volevo presentare qui l'idea degli obiettivi formativi di questo corso, senza però fare l'elenco di tutti i corsi, perché se no diventa novosissimo, e volevo partire da quello che intendiamo noi quando intendiamo interaction design, che poi è la base, la progettazione di interfacce grafica. Volevo partire da una cosa che è abbastanza scontata, che negli ultimi dieci anni sta cambiando, come si diceva anche prima, e secondo Gartner, di tutti i dispositivi tecnologici venduti nel 2014, stimano che il 77% siano smartphone, solo il 13% pc, computer, e i tablet il 10%. E già rispetto a chi è nato come me, diversi anni fa, come informatico, questa cosa vuol dire cambiare il mondo, essenzialmente. Ma il cambio è così repentino, è così veloce, che nel 2015 si stima che i cellulari saranno meno, i pc saranno meno ancora e ci saranno più tablet. Quindi è ancora un modo diverso di interagire. E questa cosa la si vede tutti i giorni, vedendo le offerte di Telecom o di Vodafone. Ma non riguarda solo il mercato consumer, che è quello più visibile, ma probabilmente anche quello meno importante in termini quantitativi. Riguarda anche il mercato, invece, molto più importante del business to business. E sempre Gartner stima che il 33% delle aziende Fortune 100, che sono le aziende più grosse, più grandi e più ricche, avranno una crisi informativa, perché non saranno nei prossimi anni in grado di utilizzare e di valorizzare le informazioni al loro interno. E che ci saranno il 50% meno di process workers, cioè di impiegati. E questo è una botta molto dura, ma ci sarà il 500% in più di questi key digital business job. Che vuol dire da chi sa usare Twitter davvero bene, a chi sa fare analytics bene, e a chi sa fare, secondo noi, anche interfaccia grafica bene. Questo per le aziende che fanno informatica vuol dire business, perché il 500% in più, il 30% di aziende in crisi per aspetti informativi, che vuol dire business, ma questo vuol dire, dall'altra parte, e come lo leggiamo noi, che è finita l'era degli utenti. L'utente vuol dire colui che usa il computer, ma oggi nessuno vuole più usare il computer. La strategia è creare esperienze di vario tipo. Infatti, sempre Gartner stima che il 50% degli investimenti nel prodotto consumer, cioè nel smartphone, saranno rivolti alla customer experience, quindi a fare interfaccia grafica, anche se ormai questo termine è riduttivo. Ma non solo, sempre per andare nel business to business, che invece è dove ci sono i soldi veri, nonostante tutto, stima che il 30%, sarà un 30% di riduzione del total cost of ownership, cioè dei costi reali di utilizzo di un sistema. Quindi vuol dire che solo chi riuscirà a ridurre del 30% riuscirà a vendere, detto in altri termini. Questa cosa del total cost of ownership è estremamente importante, perché quando parliamo di esperienza della user experience, dell'esperienza dell'utente, la prima cosa che ci viene in mente è Apple, perché è il design, il design cool. Questo qualcuno lo chiama il do the right thing. Se ci pensate, quando hanno fatto l'iPod, hanno fatto un lettore MP3, che non è neppure compatibile con gli MP3, costava sei volte di più del lettore MP3 più costoso in commercio, eppure hanno sbaragliato il mercato. Quindi questo è the right thing, fare la cosa giusta. Questo vuol dire che il design viene interpretato, adesso lo taglio, non è proprio così, però diciamo per polarizzare come fanno gli accademici, per fare i modelli semplificati, questo tipo di design è fare coolness, cose belle, il branding, il marketing, non è tutto il design questo, però è una buona parte del design alla Apple. Ma non è l'unico, non sono neanche gli Apple, non è neanche l'azienda che investe di più in design. C'è un altro tipo di design, che è il do the thing right. Quindi non do the right thing, ma do the thing right. L'esempio dell'azienda che fa meglio questa cosa è Bloomberg. Bloomberg non la conosce forse nessuno, fanno queste interfacce che viste da fuori sembrano la schizofrenia di un ingegnere informatico. In realtà sono una delle aziende che investe di più in user experience, ma user experience diversa. Vuol dire capire, questa è un'interfaccia per chi fa trading in borsa, per i professionisti. Hanno il 100% del mercato perché la fanno meglio di tutti, perché sono andati a studiare, e spendono un sacco di soldi, a studiare i bisogni dei traders, i loro valori, le loro pratiche, come danno senso, il sense making alle cose. Quindi quello che fanno è una cosa che, vista da fuori, per noi sembra una confusione totale, ma chi fa trading in questo mondo molto particolare trova lì la sua mondo ideale, è tutto nel posto dove dovrebbe essere. Riesce a rendere più efficiente, come si diceva prima, il fatto di rendere efficiente. Quindi, da un punto di vista del business, come si mappa, come si valorizza, come si calcola il valore della user experience? Se si fa do the right thing, come Apple, si misura direttamente come il marketing nel ROI, nel return of investment. Quanti soldi investiti nel design finiscono nel mio ritorno di investimento? Se faccio do the thing right, alla fine voglio avere il return of investment, perché voglio vedere quanti soldi investo in quel tipo di user experience, quanto mi torna, ma non è diretto come il marketing. In mezzo c'è un'altra cosa, c'è il total cost of ownership. Quello che abbiamo visto deve ridursi del 30%, secondo gli altri. Questo vuol dire che l'azienda che compra deve sapere che il vero costo di un prodotto informatico non è solo il costo che compro. Quando compro a Word spendo 300 euro, ma non è solo quello. È il tempo dei miei impiegati a usare Word. Quante volte sbagliano a salvare e perdono i documenti? Quello è il costo che si alza. Quante volte riescono ad essere più efficienti nel scrivere una lettera? Quello è il total cost of ownership che si abbassa. Quindi se calcolo il total cost of ownership, allora i costi cambiano. Non è più solo il prezzo di vendita. E per ridurre il total cost of ownership bisogna fare do the thing right, non necessariamente do the right thing. Come si fa a fare do the thing right? Bisogna fare un design centrato sull'utente. E questo richiede due cose essenzialmente, che ci insegnano le scienze cognitive e le scienze sociali. Sono dagli anni Ottanta che una branca della scienza cognitiva e della informatica che si chiama Human-Computer Interaction, che è l'insieme delle due, studia la tecnologia come un artefatto cognitivo. Essendo un artefatto cognitivo, presentarlo bene vuol dire avere tutti gli aspetti degli artefatti cognitivi, cioè sapere, conoscere, saper valorizzare, usare bene gli aspetti percettivo cognitivi, la memoria, i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di ragionamento, sia i limiti che le capacità delle persone che lavorano. Dall'altra parte le scienze sociali. Ancora prima, dagli anni Settanta, come insegna il professor Iacucci, che le scienze sociali vedono i sistemi sociotecnici. Cioè, quando metto un sistema in un complesso sociale, questo viene cambiato. Ho detto qualcosa. Studiare, capire, prevedere come questo viene fatto, permette di progettarlo meglio. Quindi il design è entrato sull'utente all'insieme di queste due cose. Avere informazioni sulle scienze cognitive, sulle tecnologie come un artefatto cognitivo, avere informazioni sui sistemi sociotecnici e riuscire a metterle assieme. Questo è quello che proviamo a fare. Quindi questo è il tipo di design, il tipo di informazioni, di modelli, di metodi, di tecniche che proviamo a dare agli studenti. Quindi l'offerta formativa, adesso non vi racconto tutti i corsi, ma ha un'area di scienze cognitive, con la psicologia, la psicologia sociale e così via. Un'area di interaction design, dove si impara a progettare, a usare con le informazioni. Un'area matematica, un'area informatica, perché vogliamo progettare tecnologie e non progettare altre cose. Quello che vedrete tra poco, i prossimi due interventi saranno dei nostri success stories, cioè dei nostri due studenti, che non sono gli unici due, ma sono due che abbiamo selezionato, che hanno avuto una storia di successo, nel senso che lavorano, e questo è già un successo oggi, ma lavorano anche nel campo esattamente questo. In modo diverso, uno lavora in un'azienda e l'altro in un freelance, ma entrambi lavorano e ci racconteranno un po' cosa hanno imparato, cosa non hanno imparato da noi. Poi ci sarà Ramella, siamo in Ramella, di domoticare, che racconterà invece l'esperienza dal punto di vista contrario, quello di un'azienda che ha lavorato con i nostri studenti, e quindi potrà dirci cosa gli hanno dato, cosa avrebbero potuto dare loro e non hanno dato. Poi vedremo una serie di poster, insieme al buffet, e quindi potremmo anche fare un brindisi mentre guardiamo e parliamo, di studenti che hanno lavorato su, quasi tutti sono progetti fatti come temi d'esame, e quello che vorrei raccomandare è di vedere non solo il prodotto, il progetto che hanno fatto, in alcuni casi è molto interessante anche quello, quasi tutti, ma non è solo quella la parte importante. La parte importante è anche sulle metodologie che hanno usato, perché quella è riproducibile. Un'idea è buona o non è buona, però se quell'idea è arrivata tramite un metodo, tramite un approccio, questo approccio è riproducibile, può essere riprodotto anche in altri contesti. Vedrete tre cose diverse, tra le tante. Un approccio all'interaction design, cioè all'uso di alcuni metodi, come stakeholder analysis, personas, di scenari, un tipo di progetti che riguarda più le scienze cognitive, l'uso delle interviste per capire i bisogni degli utenti, e poi alcuni che riguardano più gli aspetti sociotecnici, dalle etnografie all'analyse dell'intervento organizzativo, che riguarda questo secondo aspetto che dicevo prima, del design del do the thing right invece del do the right thing. Ok, io avrei finito, spero di essere stato di dieci minuti, mi sono indicato di far partire il cronometro, e quindi passo la parola a Filippo. Grazie.